La prima di oggi è che, intanto mi presto un palazzo del cinema. E' un'altra cosa. Mi chiederò? Quando mi lavorerò il presidente dell'azienda. Ah, è stata una professore? Sono io, non ce l'ho passata. Ecco, sei lavorando con un altro in particolare, con i prossimi mesi, senza entrare in vita. Sì, però non lo dico tanto perché non ci metti la firma a casa mia, non ci canta Vittoria. Sì, guarda il tuo è. Ho un po' di tempo, ma in persone sono molto scaramante. Ma come ho già stato saluto? Ragazzi, scarpe sì. Sì, ma è un po' di stare. Aspetta, non la distruttiamo. Ma tecza sparito. Non è tecza sparito. Non è tecza sparito. Non è pari in tecza. Vabbè, mi ferma. Quanto i sociali sono benvenuti nel stato di cittadinanza. Allora, i sociali possono esprimere, da loro iniziati, a volte, magari, che ne sono abbinati, dai giornali, oppure dalle copertine, perché a volte ci vengono ricordate le cose che... Scusate, abbiamo messo un po', quindi eravamo andate alle sociali in immediato. Allo stesso tempo, però, i sociali hanno scattato le gabbie a tanti creativi. Quindi, insomma, bisogna fare i conti con delle persone che prima c'erano sempre, sempre state, che adesso si palestano con i sociali. Però, diciamo che il bene c'è sopra il male. Le persone cattive sono poche, quindi le persone sensate, che hanno un cervello, che pensano e che seguono le persone perché hanno un piacere di seguirle, e non per criticarle o gettare fango, ma sono molto di più rispetto ai creator. Ci rimette le visioni? Dove preferisci? Riesco a lavorare ovunque dove ci sia l'oggetto che ci sia. Ci sono come una pizza, una pizza di pizza, con tanti ingredienti. L'importante è mangiare una pizza di pizza e stare bene. Grazie. Grazie.